Benvenuti a questo video. Benvenuti a questa prima puntata della rubrica Arte di Essere prodotta da Voci di Strada. Io sono Erika Di Matteo, vengo da Altavilla Silentina in provincia di Salerno e mi considero un'artista emergente. La mia passione è l'arte. Il mio primo incontro con essa è stato fin da piccola. Già nella mia famiglia c'è mio zio che nutre questa passione. Grazie a lui ho imparato le varie tecniche e i vari modi di esprimere l'arte. Anche se io ho fatto altri studi. Ho frequentato prima il liceo scientifico-linguistico a Roccadaspide, sempre in provincia di Salerno. Poi mi sono laureata in bene culturale, in indirizzo archeologico all'Università degli Studi di Salerno. La mia passione è nata come un amore. Sono rimasta dapprima meravigliata dai disegni di mio zio e gli chiesi come si potesse elaborare un quadro. La prima frase che lui mi disse, nel momento in cui decidi di fare un ritratto devi partire sempre dagli occhi, perché gli occhi sono lo specchio dell'anima. E infatti ogni volta che io ritraggo qualcuno parto dagli occhi, perché in effetti è come se leggessi l'anima di ciò che io ritraggo. Cerco sempre di afferrare il profondo di un qualcosa, cerco sempre di catturare l'emozione che mi trasmette personalmente e che può trasmettere anche agli altri. In questa prima puntata spieghiamo l'arte, il concetto di arte in un modo un po' più generale e collegandolo all'era contemporanea. L'arte nel suo significato più grande comprende ogni attività umana che porta a forme creative di espressione estetica attraverso varie tecniche. Nel giorno d'oggi invece il concetto di arte è strettamente legata ad uno stato d'animo, cioè rappresenta l'espressione dell'animo umano. Infatti se prendiamo in considerazione le parole di un grande pittore russo dell'era contemporanea, Marc Chagall, possiamo sottolineare proprio questo concetto. L'arte è uno stato d'animo, è un modo d'essere, non è importante lo stile, esprimersi lo è. L'opera d'arte deve avere un contenuto psicologico, quindi l'artista trasmette attraverso il suo quadro il proprio stato d'animo. Oggi l'arte viene praticata anche attraverso il riciclo dei materiali, quindi la cosa anche più banale può assumere una forma estetica più consona all'occhio umano, stimolando la creatività e la fantasia. Proprio per questo nella prossima puntata, nella seconda puntata, vedremo le varie tecniche legate sia al riciclo dei materiali e sia alla formulazione del concetto d'arte. Alle mie spalle vedete un'altra mia opera commissionatami da voci di strada. Come vedete qui ho riprodotto un ambiente urbano appunto per rimandare al contenuto della web tv e ho riprodotto in effetti delle persone nelle azioni di vita quotidiana. La tecnica è in acrilico, ovviamente con varie pennellate e è tutto un lavoro di sfumature, un mix di colori proprio per dar vita a un quadro. Su questa strada che vediamo in lontananza abbiamo pensato di scriverci le frasi più appropriate al contenuto di questa web tv, appunto la web tv dove sei protagonista, attualità, cronaca. E in primo piano abbiamo riprodotto una giornalista che intervista qualcuno con una telecamera che riprende. Sui cartelli abbiamo scritto storie e fatti e in alto, proprio per mettere in evidenza, il titolo della web tv, voce di strada, la web tv della gente. Questa prima puntata è stata da introduzione, nella seconda vedremo in pratica le varie tecniche, quindi mi vedrete all'opera. E anche per insegnare a tutti coloro che nutrono già questa passione, che magari non si cimentano per mancanza di tempo, oppure semplicemente anche perché non credono nelle proprie capacità. Per questo vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.